Siamo in due, siamo in due, in tre, in quattro. Posso andare? Sì, sì, vai Claudio! Ok, salve mister, complimenti! Grazie, buonasera! Gli avranno già detto che Modena non batteva il Carpi da un po' di tempo, quindi questo diciamo dà ancora maggior valore alla vittoria, no? Però chiaramente la cosa più importante sono questi tre punti che Modena credo abbia fortissimamente voluto. Forse questa è la cosa più bella. Sì, diciamo di sì, diciamo che rispetto a loro avevamo avuto un giorno e mezzo in meno per recuperare la partita precedente e un giorno e mezzo in meno per prepararla, però i ragazzi sono stati bravi, quando c'è stato da provare a giocare e a proporre l'hanno fatto, quando c'è stato da difendersi e buttare il cuore oltre l'ostacolo l'hanno fatto. Apprezzo la voglia comunque, dopo aver subito il gol del pareggio, di provare a rifarlo immediatamente, con un pizzico di fortuna ci siamo riusciti. Credo che il fine giustifichi i mezzi e quindi questa è una vittoria che ci fa molto piacere, che dedichiamo ai nostri tifosi che purtroppo non possono venire, ma che immagino e spero abbiano gioito insieme a noi e andiamo avanti. Adesso recuperiamo energie e prepariamo la prossima partita con il Manto. Prima di cercare spazio ai colleghi, vi volevo chiedere, la seconda metà del primo tempo, diciamo che il campo è venuto fuori, il Modena è un po' arretrato, sembrava un po' stanco, ma chiaramente nel primo tempo non poteva essere. Qual è stata la difficoltà? No, la percezione è quella che ho avuto anch'io, che nonostante siamo secondo me partiti bene come distanze, come palleggio, come voglia di andare a fare male, nella seconda parte del primo tempo mi è apparso anche a me di vedere un calo fisico, sotto certi aspetti poteva essere messo in preventivo verso la fine della partita, non verso la fine del primo tempo, però la percezione è che ci fossimo un pochino sfilacciati e allungati, non riuscivamo più a coprire le loro linee di passaggio, non lavoravamo più bene come abbiamo lavorato nei primi 20 minuti e quindi obbligatoriamente ci siamo abbassati. Ci sono? Pronto? Non mi sento più. Pronto? Sì, ecco, ecco. Ho parlato, è finito. Si è guardato? Ale? Sì, mister, volevo chiederti, mi senti? Sì, bene. Volevo chiederti il motivo tattico per il quale nel secondo tempo, intorno al sessantesimo, hai optato per passare alla difesa 5-3, insomma, in base al possesso o meno, avevi visto proprio in questa ottica un Modena leggermente più stanco rispetto al Carpi, fisicamente prorompente in quel momento della partita? No, allora, diciamo che noi avevamo preparato, in un giorno e mezzo avevamo preparato la partita per lavorare come facciamo sempre, quindi per arrivare sui loro quarti che tenevano molto alti o con la mezzala o con il terzino. Nella prima parte del primo tempo l'abbiamo fatto bene, nella seconda parte del primo tempo non l'abbiamo fatta bene, allora abbiamo optato per una soluzione diversa, dove praticamente scalavamo in maniera simmetrica, da una parte abbassavamo Castiglia e dall'altra parte alzavamo Bearzotti, con Mignanelli che diventava il terzo centrale, perché loro comunque ti tenevano tre attaccanti sulla linea difensiva e tenevano i quarti molto alti. Poi ho pensato che se dovevo far fare un lavoro di sacrificio a Castiglia, fare il quinto e dovevo tenere Mignanelli a fare il terzo centrale, ho preferito mettere Mignanelli a fare il quinto e a mettere un terzo centrale. L'unica difficoltà che poi secondo me abbiamo avuto, che ci ha messo un pochino in difficoltà, che ci ha costretto ad abbassarci e che concedevamo palleggio ai loro tre centrali e ci toccava abbassarci troppo. Allora poi con l'entrata di Davi l'idea era quella di uscire con un centrocampista e andare a dare fastidio al loro palleggio dei tre centrali. Poi sono stati bravi a fare gol perché noi li potevamo sicuramente fare meglio, però ho apprezzato la voglia e la reazione dei ragazzi di provare immediatamente a rifarlo. Ci è andata bene, ma è stato un segnale che io ho apprezzato. Parto io. Volevo chiederti, ciao Tiziano, buonasera. Allora, hai scelto di battere il rigore per ripetere un po' la storia dello scorso anno al Cabassi? Ti è passato di mente un po' quel momento? Adesso lo batto io, così faccio come l'anno scorso. Sì, assolutamente. Quando mi sono procurato il rigore ho subito preso la palla perché volevo tirarlo e ripetere il gol vittorio dell'anno scorso. Diciamo che è andata bene perché l'ho tirato più o meno allo stesso modo e ho spiazzato il portiere, quindi bene così. Ascolta, Mignani prima ci ha raccontato di un Modena non sempre precisissimo nel possesso palla ma comunque volenteroso e cercare anche il 2 a 1 dopo il loro pari a pochi minuti dalla fine. Tu che modena hai visto oggi? Sì, sono d'accordo. Oggi era una partita difficile perché loro una squadra molto propositiva e che giocano con un modulo non facile da affrontare e si è stati bravi a portare la partita subito in discesa, però è normale che quando vai 1 a 0 dopo 10 minuti ci sta che un po' soffri. Credo che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra per questo perché abbiamo ottenuto duro fino a un certo punto e poi i cambi ci hanno fatto vincere la partita, quindi penso che sia questa una cosa molto importante. Vado a memoria, l'anno scorso Carpi, Trieste, quest'anno Vispesaro e ancora Carpi, insomma quando segna Tulix il Modena vince, però insomma è una bella statistica. Sì, è una bella statistica, quindi devo cercare di segnare tutte le domeniche o tutti i mercoledì così vinciamo sempre. No, a parte gli scherzi. Sì, è una cosa curiosa che mi fa molto piacere e spero sia di buon auspicio per altri gol. L'ultima per me ti chiedo, è Modena che con questa vittoria si lancia nelle prime posizioni in attesa di quello che farà il Padova. Tu che hai vissuto anche la scorsa stagione, cosa stai notando di diverso rispetto ovviamente agli obiettivi dello scorso anno che erano totalmente diversi? Penso che quest'anno, oltre naturalmente ad avere una rosa più profonda e con giocatori molto forti, penso che abbiamo una mentalità vincente, vogliamo andare a vincere su tutti i campi, aggredendo sempre l'avversario e spesso c'è anche riuscito perché anche nelle sconfitte che abbiamo avuto, credo che meritavamo quasi la vittoria più lì che magari in altre partite. Quindi penso che la mentalità sia una cosa molto importante per cercare di vincere tutte le partite. Tanta amarezza per questa tua prima volta in assoluto contro il Modena, Tato, insomma a gang, ti ha avuto anche un gol, praticamente ci ha regalato tutta la panchina e anche tu con le braccia alzante. Sì, beh, la prima è l'avversario del Modena, me la sognavo diversa, però purtroppo è andata così. Però credo che il Carpi oggi abbia dimostrato di essere una squadra importante, una squadra forte, una squadra che comunque gioca bene a calcio e credo che il Modena non ci ha mai messo sotto, a parte magari in qualche situazione, ma credo che per tutti i 90 minuti abbiamo fatto un'ottima gara e la sconfitta credo che ci stia molto stretta. Io, come hai detto tu, stavo già per esultare perché comunque il portiere mi ha fatto una grandissima parata. È stata una gara tutta in salita con quel calcio di rigore all'inizio? Sì, è stata una gara in salita perché comunque quando sei svantaggio è chiaro che devi cercare di recuperare, però ti ripeto, credo che il Carpi abbia fatto la partita che doveva fare e siamo stati bravi a reagire, a fare il nostro gioco, a provare tutto quello che avevamo fatto in settimana e poi siamo stati bravi a pareggiare. Purtroppo questo errore di un mio compagno è stato caro, ma oggi è capitato da lui, potrà capitare a chiunque. Adesso voltiamo pagina perché comunque già domenica abbiamo un'altra battaglia e credo che se giochiamo con questo spirito poche squadre ci metteranno sotto. Avete protestato anche per il giorno, non c'è un'immagine abbastanza nitido, c'è un gioco di un momento. Sì, io guardo dal campo credevo appunto che fosse regolare e me l'hanno confermato poi negli squadratori facendomi vedere le immagini, però purtroppo l'abitro ha deciso così e ormai è andato, non ci possiamo fare niente. Il ragionale è sicuramente la più amata perché non avete fatto nemmeno il tempo a sorrirla che è arrivato a Frettini. Sì, ho fatto quarto gol ma non ho contato veramente nulla, quindi c'è tanta amarezza e niente, già da domani lavoreremo e andremo avanti. Ci racconti un po' il gol, sei stato bravo a seguire l'azione, ha fatto un grande movimento. Sì, Frettini ha fatto un grande movimento, ha fatto un gran tiro, il portiere ha ribattuto e per fortuna è capitata sui piedi e è andata dentro. Ci avete provato come l'avevi visto dalla panchina al primo tempo del campo in salita con l'avore? Sì, inizialmente abbiamo fatto un po' di fatica, poi secondo me abbiamo preso gioco, abbiamo preso campo e secondo me è stata una partita che è stata abbastanza dominata da noi, col gioco e tutto. Poi due episodi purtroppo ci hanno condannato e possiamo parlare di uno sconfitto. È una sconfitta amara perché è arrivata in un derby, quanto vi ridimensiona un po' secondo te oppure quanto vi rafforza per la prostituzione? Ma si deve sicuramente rafforzare questa sconfitta perché già da domani dobbiamo ripartire da qui e partiremo ancora più motivati, più cattivi e cercando di essere più determinati e cercando già la domenica prossima di cercare la vittoria.